Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo piccolo tutorial vi spiego come aumentare la nitidezza su Counter Strike 2 ovviamente questa impostazione non la tiene Counter Strike nel gioco, quindi non la tiene, ovviamente faremo tutto all'esterno dell'applicazione quindi se avete Nvidia andremo a farlo sul pannello di controllo di Nvidia il link sta in descrizione per scaricare il pannello di controllo di Nvidia, per AMD non vi so dire come funziona perché io non ho AMD, ho solo Nvidia come scheda video quindi questo è il nostro pannello di controllo di Nvidia attraverso questo pannello più l'altro pannello GeForce Experience può aumentare la nitidezza direttamente nel gioco facendo Alt più Z aggiungendo un filtro al gioco e poi aumentare la nitidezza invece attraverso il pannello di controllo Nvidia, se vai su impostazioni programma, da qui potrai veramente fare qualsiasi cosa ho fatto un tutorial su come aumentare gli FPS su Counter Strike grazie a questo pannello ed è veramente una cosa meravigliosa aumentare di 150 FPS in più sul gioco quindi se tu vai su aggiungi, impostazioni programma, aggiungi, vai su sfoglia vai nella cartella dove hai installato il gioco, quindi io ho installato il gioco sul volume E che sarebbe il mio M2, il mio disco, un altro disco vado sulla libreria di Steam, Steam Library, Steam Apps Common, Counter Strike Global Offensive, Game, Bin, Win64, CS2 e fai apri e lo aggiungi qua sopra una volta aggiunto andiamo su ridimensionamento immagine e qui potrai aumentare la nitidezza qui c'è scritto aumenta la nitidezza se fai disattivato toglierà la nitidezza sul gioco se metti attivato farà un ridimensionamento GPU nitidezza però userà maggior consumo quindi userà di più la scheda video quindi faremo una prova però io lo disattivo perché sinceramente non mi serve quindi adesso facciamo una prova quindi da 0% metto 100% e faccio ok e faccio applica ok una volta applicato andiamo ad aprire il gioco ok la nitidezza è aumentata ovviamente è aumentata però se si vede così una qualità veramente scadente perché io avevo già abbassato la grafica però la nitidezza ha funzionato io vedo più nitido il gioco quindi stesso OBS non lo riprende però a me lo fa vedere quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aumentare la nitidezza su Counter Strike 2 iscriviti, lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao